Il futuro siamo noi, lo slogan delle feste Archimedea e ci allacciamo a Game Upi. Ci allacciamo al progetto di cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è capofila che è un progetto, il futuro siamo noi, musica, arte, cultura, salute, sport soprattutto è un progetto che è stato finanziato dall'Unione Provincia Italiana e rientra nel programma Game Upi finanziato con Fondo delle Politiche Giovanili 2022 è un progetto che ha come obiettivo i giovani dai 14 ai 35 anni e che ha appunto lo scopo di promuovere uno stile di vita sano attraverso lo sport è un progetto che ci vede presenti all'interno delle feste Archimedea quindi questa bellissima collaborazione che si è creata appunto e in sinergia con l'organizzazione delle feste Archimedea all'interno delle quali è inserito il nostro progetto con una serie di eventi e iniziamo giorno 3 con una grande manifestazione, una grande festa dello sport che vede protagonisti non solo i nostri partner che sono associazioni sportive ma anche le associazioni sportive di Siracusa quindi ci saranno tutta una serie di dimostrazioni di sport di vario genere e in più anche la cultura e l'arte con il nostro partner che è l'Accademia delle Muse Houser che si esibirà con un coro intergenerazionale perché un altro scopo del progetto Game Movie è la collaborazione fra le generazioni e l'apertura alla comunità e alla collettività per cui ci sarà anche la partecipazione del coro e quindi anche l'arte l'istituto alberghiero che nel cortile del palazzo del governo della provincia farà una sua attività di promozione della sana alimentazione e quindi diciamo una serie di grande evento del 3 che si inserisce nelle feste archimedee e altri eventi che si svolgeranno durante le feste archimedee